Dopo aver bevuto, quanto tempo deve passare per mettersi alla guida? Come si raggiunge il limite 05? Esistono dei trucchi per abbassare il tasso alcolico? A queste e a tante altre domande rispondono gli psicologi di Stami Bene, con la campagna di sensibilizzazione del Dipartimento delle Dipendenze Patologiche di Macerata, dal titolo L'alcol non sa guidare, rivolta agli allievi delle scuole guida della provincia di Macerata. Quello che è il nostro obiettivo è proprio sensibilizzare da una parte i ragazzi ai pericoli legati alla guida in stato di ebbrezza e informarli circa i rischi che corrono e l'interazione che avviene a livello organico dell'alcol associato alla guida. Dall'altra parte abbiamo tutto l'aspetto legale, quindi la nuova normativa, il codice della strada aggiornato al luglio 2010 e quindi anche le nuove regole per i neopatentati che come sappiamo hanno spostato il limite alcolemico da 0,5 di una volta a 0,0 per alcune categorie tra cui loro. Per spiegare gli effetti dell'alcol e che cosa succede quando ci si mette alla guida dopo aver bevuto, gli operatori di Stammi Bene utilizzano video informativi e simulatori di guida e solitamente i ragazzi si mostrano molto interessati all'argomento. L'alcol non sa guidare è un progetto nato da due anni via sperimentale che negli ultimi mesi si sta concentrando nelle città di Recanati, Macerata e Matelica. È in questi territori che secondo i dati forniti dalla Questura di Macerata e relativi all'estate del 2011 si sono registrati il maggior numero di conducenti alla guida in stato di ebbrezza e di incidenti causati dall'utilizzo dell'alcol e dall'alta velocità. Quest'anno abbiamo una richiesta maggiore perché purtroppo i dati crescenti del numero di incidenti legati alla guida in stato di ebbrezza praticamente la Questura di Macerata ci ha chiesto proprio una partnership e un intervento più incisivo nelle scuole guida in tre punti individuati come i più sensibili a questo fenomeno che sono stati Recanati, la città di Macerata e la città di Matelica.